Pierce Morgan ha lasciato clamorosamente Good Morning Britain perché si è rifiutato di scusarsi per aver detto che non credeva a Meghan Markle e al principe Harry dopo la loro famosa intervista con Oprah Winfrey P. Morgan si è scagliato ancora una volta contro Meghan Markle, definendola una palpabile bugiarda. L'ex presentatore di Good Morning Britain ha lasciato clamorosamente il suo ruolo dopo che i capi gli hanno detto che doveva scusarsi per aver detto che non credeva alle cose che Meghan e suo marito, il principe Harry, avevano detto durante la loro famosa intervista con Oprah Winfrey. Punto punto. Ora, ha detto che sentirsi dire di scusarsi con la duchessa del Sussex era farsa. Apparendo su Fox News negli Stati Uniti, Pierce ha dato un altro colpo alla coppia reale. Ha detto. In relazione a quell'intervista, ora sappiamo che c'erano almeno 17 cose che sono uscite dalla bocca di Meghan Markle che ora si sono rivelate false. Quindi non so a che punto mi è permesso di non devi scusarti per non aver creduto a qualcuno che è palesemente un bugiardo. È una situazione farsesca e, naturalmente, con tutte queste situazioni al momento, con la cultura dell'annullamento, la folla di Twitter viene da te e dice. Beh, se non credi a Meghan Markle sei un razzista. Al che dico, non ho mai detto una cosa razzista su Meghan Markle o chiunque altro, non ha nulla a che fare con il colore della sua pelle e tutto a che fare con la sua incapacità di dire la verità e la sua rango ipocrita. Penso che sia ora che quei due rinuncino ai loro titoli, smettano di piagnucolare 24 ore su 24, sette giorni su sette e provino a prendere una foglia dal libro della regina, di cui hanno dirottato il soprannome Lilibet per la loro figlia. Prendi un piccolo consiglio dalla regina, meno è meglio. E se vuoi essere un reale, un membro della famiglia reale, meno è meglio. Sentiamo troppo i tuoi gueiti, troppo i tuoi piagnucolii, è ora di buttarsi giù. Piers ha anche detto durante la sua intervista al telegiornale americano che sta avendo molte conversazioni interessanti riguardo al suo ritorno in tv.